ciao a tutti oggi è domenica 30 luglio 2023 siamo al mare sotto l'ombrellone sul lettino no mi sono sbagliato siamo nell'agroforestazione da mia nonna che stiamo lavorando io e c'è anche il cane ad essere nascosto e volevo farvi un video su come utilizzo il decespugliatore per togliere i rovi perché ho detto magari a qualcuno interessa non è una cosa difficilissima però volevo solo farvi capire un po come faccio io allora partiamo un po dal mezzo allora io utilizzo un decespugliatore ho un etico abbastanza potente e questo disco qui più che altro devo far vedere il disco che sono tre o quattro anni che lo uso il disco è il classico macinone si chiama e vedete ha una forma ovale e va utilizzato in questo modo così su e giù non vi faccio vedere il decespugliatore acceso perché sennò non si sente niente che fa un casino bestiale così non così così lo potete usare quando avete tagliato tutto magari alla pulire appena però se lo usate così rischiate che vuole via e prendete dei colpi è molto pericoloso come disco quindi va sempre usata l'imbragatura l'imbragatura seria va usato un caschetto io uso questo ma potete usare quelli del decespugliatore classico grandi l'ideale sarebbe tenere degli occhiali protettivi sotto poi stivali e tuta certi mettono il ginocchieri io non le metto l'importante che abbiate sul sul decespugliatore la sicurezza comoda perché se dovete spegnerlo così fate fate la svelta va usato con cautela è molto molto potente distrugge distrugge abbastanza bene i rovi quindi fate attenzione se lo acquistate ci vuole viene fornita con la sua rondella poi ci vuole un dado sinistro un applicare di solito danno il macinone con questa rondella qua e poi dovete acquistare il bullone no però forse non lo danno la rondella probabilmente vendo solo il macinone la rondella l'ho presa parte questa qui è dentata in base all'albero del vostro del vostro decespugliatore e poi occorre io poi ho messo una rondella piano un bullone sinistro perché il filetto sinistro dovrebbe essere un m8 perché si molla con la chiave del 13 si molla e quindi decespugliatore potente una bella imbragatura seria e le protezioni guanti e adesso vi faccio vedere un po il lavoro che faccio io allora qui era tutto pieno di rovi adesso vi faccio vedere come questo l'ho fatto in tre o quattro mattine pian piano un pezzo alla volta sempre utilizzandolo così e questa è la situazione dei rovi che c'è cioè una cosa bestiale poi c'è tipo un nido di qualche animale tipo non so se sono stati dei cinghiali o c'è un nido di tasso non so che bestia sia comunque qui qui sono saranno 30 anni che non città 20 o 30 anni che non vengono tolti rovi e allora cosa succede si forma la parte nuova che è questa poi secca la parte la parte vecchia secca e viene sopra la nuova e allora ci vengono delle montagne e poi hanno dei fusti considerevoli tipo adesso ve ne faccio vedere un po in terra tagliati ma c'era della roba c'era della roba molto grossa tipo queste qua ce n'è un gruppetto ce ne sono dieci e poi c'è anche della vita alba c'era in mezzo ce n'è anche di più grande e con questo movimento qui partite se trovate dei rami tipo questo perché qua c'erano nella noce secca sono caduti dei rami io ci do ci do un po poi tolgo oggi ho fatto quel pezzo qua attorno a quel fico qua era pieno di rovi fino lì e poi c'erano c'erano dei rami coricati del fico li ho tolti e ho pulito tutta questa zona qui lì dopo vengo su col cippatore cippo non è il massimo tagliare il fico adesso però è lavoro che dovevo fare avevo tempo adesso e l'ho fatto e guardate un po che roba che c'è pian pianino con calma ci fa tutto faccio vedere un po e dopo se fate bene viene fuori resta tutta resta tutto macinato così però ci occorrono diversi passaggi poi io qua ci farò un frutteto quindi ci lascio questa roba qui e solamente che i primi anni dopo ricacciano ancora e noi li continuo a tagliare e qua ho fatto tutto pian pianino come dicevo diverse settimane che vengo qua o il sabato mattina o la domenica uno trita un po così pian pianino questa zona qua qui c'era una pianta che la sera di velta una noce e poi ho fatto tutta la parte qua dietro e questo qua il frutteto che trovate i video nell'agroforestazione sono più fatti perché non c'è niente da vedere c'erano dei grandi delle grandi robe da tagliare tipo questo qua che tipo un sambuco ma non so come si chiama edulis credo una pianta al bacia tipo sambuco e ne vengono su un'esagerazione la ci riesco a tagliare col goldoni la parte di qua qua è tutto col dicespuratore perché guardate come crescono vengono due metri e mezzo non si vedeva neanche cosa c'era pian piano dopo c'è tagliato e qui c'era tipo come l'anno scorso pian pianino continuo a tagliare i rovi vanno sparire quel pezzettino qua c'avevo già tagliato l'anno scorso infatti ce ne sono meno e qua qua invece c'era era come la e pian pianino sto tagliando qua c'era un disastro guardate qua c'erano delle piante pian piano ci giro intorno e poi dopo sono dei sambuco l'italio poi li vado e andrò a cippare col cippatore qua devo andare avanti comunque se avete delle zone magari ripide dove avete dei rovi da togliere o delle o delle delle canne tipo grandi o qualsiasi cosa che abbia un fusto abbastanza legnoso io ve lo consiglio funziona bene bel disco come vi dicevo prima vi lo ripeto ancora bisogna fare attenzione perché pericoloso ho utilizzato con con calma senza fretta invece spugliatore potente non troppo su di giri pian pianino in questa maniera qua poi quando siete sotto potete fare anche così ma quando perché dovete tirarlo su abbastanza perché se avete dei rovi alti quindi è pericoloso lo alzate giù lo alzate giù potete colpire anche quando andate su col disco perché ha le facce da tutte e due le parti quindi tritta nel scendere e anche nel salire infatti se vedete è curvo sopra e sotto quindi taglia anche quando va su l'ideale è usarlo da lì in giù però anche quando andate su riuscite a tagliarlo magari prendete pochi rovi alla volta su e giù su e giù con calma andate a tritare poi quando li avete tritati fate in giro così a livello terra li tagliate per due o tre anni vedete che pian piano spariscono i rovi il primo anno è il lavoro più grosso dopo ricacciano poco ricacciano appena ci date un colpo il lavoro che fate in tre o quattro mattine adesso in un'ora dopo lo fate perché ci potete dare anche così un colpetto veloce ci date male due volte all'anno li tenete belli coricati e poi vanno a sparire pian piano dopo diventa così come vedete qua qui ce ne hanno dirò abitanti specialmente la dove vedete quelle piante quelle pioppe la che erano marce la ce ne hanno un'esagerazione pian pianino a continuare a tagliarli poi vanno a sparire vi volevo fare vedere un po questo disco qui perché lo consiglio volentieri se volete acquistarlo ve lo consiglio veramente poi non ha un costo esorbitante assolutamente così nei 20 25 euro o un pezzo di ferro non è che sia anche però per il lavoro che fa credo che li valga tutti poi non so se ne fanno anche di altre marche io ho preso questo qua poi vedete voi se lo trovate simile importante che sia fatto così che si usi così vedete che senza dubbio vi sarà utile quindi se avete qualcosa da chiedere scrivete pure nei commenti o altrimenti potete scrivere al nostro gruppo di telegram del progetto biodiversità condivisa dove trovate me e tanti altri ragazzi molto in gamba che hanno l'orto il frutteto ci sono degli apicoltori esperti di permacultura c'è un po di tutto quindi se vi interessa l'argomento iscrivetevi vedete che troverete tante persone disponibili che vi possono aiutare o altrimenti per chi abita vicino a palma o passa da palma mi venite a trovare che facciamo magari un giro facciamo una mattina di lavoretti insieme poi mangiamo una pasta insieme va bene quindi vi saluto grazie mille e alla prossima ciao a tutti ciao ciao grazie a tutti